Anzitutto, vorrei ribadire che è inaccettabile, perché disumano, un sistema economico mondiale che scarta uomini, donne e bambini per il fatto che questi sembrano non essere più utili secondo i criteri di redditività delle aziende o di altre organizzazioni. Proprio questo scarto delle persone costituisce il regresso e la disumanizzazione di qualsiasi sistema politico ed economico. Incontrando una delegazione della Global Foundation a Roma per la Tavola Rotonda, insieme ci impegniamo per il bene comune globale, Papa Francesco ha nuovamente messo a fuoco i mali prodotti da una globalizzazione irresponsabile. Rischi che Giovanni Paolo II nel 1991 aveva paventato di fronte al crollo di sistemi politici oppressivi e alla progressiva integrazione dei mercati e che si sono concretizzati in una scarsa o nulla considerazione dei fenomeni dell'emarginazione, dello sfruttamento e dell'alienazione umana. Ma se da una parte ci sono i mercati con le loro regole inumane, dall'altra ci sono persone, come lo è stata Madre Teresa, o istituzioni capaci di promuovere una globalizzazione solidale e cooperativa, una società in cui ognuno non si è indifferente alle ferite dei poveri, ma impari a compatire con coloro che soffrono per le persecuzioni, la solitudine, lo spostamento forzato o la separazione dalle famiglie, con coloro che non hanno accesso alle cure sanitarie, con coloro che patiscono la fame, il freddo o il caldo. Grazie a tutti!